in questo momento ci sono centinaia di migliaia di centraline dronit al lavoro in oltre 50 paesi nel mondo garantendo massima performance in qualunque condizione ambientale o applicazione per continuare a garantire centraline sempre più affidabili e longeve abbiamo scelto di investire in macchine di ultima generazione per la produzione dei componenti principali due sono i centri di lavoro cnc dedicati alla produzione dei corpi centrali il cuore delle nostre centraline modulari compatte ed entrambi sono cnc a cinque assi 100 per cent automatici e robotizzati in questo modo possiamo lavorare tutte le sei facce del corpo centrale in un unico passaggio senza riprese non solo grazie alle sonde integrate di controllo dimensionale ciascuna lavorazione è realizzata ad hoc su ogni singola fusione questo vuol dire che vengono eliminate tutte le piccole naturali differenze delle singole pressofusione di alluminio garantendo una precisione micrometrica su ciascun pezzo e l'intero processo è integrato con un sistema di controllo grazie alla visione artificiale a un robot automatico di carico e scarico dei pezzi un'isola di lavaggio ed un magazzino automatico verticale questo sistema ci garantisce un'autonomia di lavorazione fino a 48 ore non presidiata a completare il tutto abbiamo macchine cnc a quattro assi molto veloci per la lavorazione dei blocchetti olodinamici a partire da barre trafilate